Siamo quasi a termine del nostro concetto e allora volevo invitare il nostro sindaco Anna Nazari a salire in presbiterio. Grazie. Grazie dell'opportunità. Grazie a tutti. Ringrazio il maestro Piero Bosna e Lisa Dinkhi perché oramai da anni stanno facendo di Veggiano veramente un centro di musica classica inaspettabile. Diciamo che queste armonie stanno entrando anche in famiglie che non conoscevano la musica come la mia, per esempio, e quindi è un grande merito per la diffusione di questa arte straordinaria. Quest'anno ad aggiungere un evento strepitoso come è il concerto di Natale della Musica al Borgo, abbiamo anche delle presenze strepitose, di questo come sindaco e amica dei maestri, che io e di Lisa sono onorata, e vi vorrei dare un piccolo dono di ricordo di questa comunità che ha leggiano. C'è un libro sulla sua storia antica, scritto dal nostro vice sindaco, un libro sulla sua storia più recente, triste, la nostra alluvione, però fa parte della nostra storia ed è quindi motivo di darvi veramente il benvenuto in questa comunità con la speranza di ritrovarci presto. Grazie. 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 Grazie a tutti i bambini, il pubblico che è venuto qui stasera e voglio fare un ringraziamento che non ho mai fatto. È cominciato tutto naturalmente non qui, è cominciato nell'ossana 1970 e tanto quando guardo, mi abisame, il mareo, il prossimo mio papà. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, che viene sempre a vedere come prosegue quello che lui ha seminato tanti anni fa. Grazie. 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 Allora Elisa, a un attimo scompigliato, è bravissima. Allora, noi abbiamo preparato anche per i solisti che hanno veramente dato tanto in questo concetto e sono Yuki, Lasciughal, Scenebretto, Due per Ancesto. Grazie. naturalmente noi però non ci siamo dimenticati di una persona speciale che è la nostra Elisa e è vero il papà ha dato tanto ma se noi siamo qui è merito soprattutto di Elisa grazie grazie prima di salutarvi vogliamo lasciarvi con il nostro brano classico natalizio e allora invitiamo i bambini della classe ritmica ad unirsi a noi ve li presento sono Esther, Gaia, Pietro Ludovico, Riccardo Giovanni, Emma e Edoardo sono quasi tutti i fratellini degli allievi dell'orchestra che si stanno preparando per l'approccio allo strumento come a loro volta avevano fatto i più grandi e naturalmente sono accompagnati dalle loro mamme che sono fondamentali in questo percorso il prossimo anno ci auguriamo di vederli suonare assieme a noi ma per adesso ci accompagneranno con un piccolo strumento natalizio Jingle Best Ringler 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.